Musica Liberi.tv, Cosenza Pride in compagnia di Marco Amendola che è praticamente un membro di Avenitalia che ora ci spiega cos'è questo Avenitalia Certo, buonasera a tutti, innanzitutto siamo qui al Cosenza Pride per ribadire con orgoglio il nostro essere, il nostro essere liberi di poter fare ciò che si vuole naturalmente nel limite delle leggi consentite Cosenza Pride ospita quest'anno e viene ospitato alla città di Cosenza e noi come Avenitalia siamo presenti a Cosenza per la prima volta in Calabria Cos'è Avenitalia? Avenitalia è la comunità degli asessuali italiana è un forum, è nato prima il forum, David J l'ha fondato in America nel 2001 poi è stato fondato anche qui in Italia e da circa tre anni io faccio parte di questa associazione, di questo movimento associazionismo Chi ti volesse contattare, lo diciamo da subito, hai sicuramente una pagina Facebook, esiste un sito internet, spiegaci Sì, c'è il forum, il forum Aven, Avenitalia appunto, oppure la pagina Facebook, la comunità degli asessuali italiana Spiego chi sono gli asessuali Gli asessuali sono quelli che non provano attrazione sessuale verso nessuno Poi ci sono i demisessuali, cioè coloro che provano attrazione sessuale solo se c'è un forte legame emotivo E infine gli asessuali grigi, i cosiddetti grigi che appunto provano attrazione sessuale raramente Ho capito, praticamente c'è una cultura dietro a questo acronimo Grazie all'orientamento asessuale si è capita la divisione tra attrazione sessuale e attrazione affettiva romantica Perfetto, io Marco ti ringrazio del contributo che ci hai dato Ti auguro buon primo Pride Cosentino e soprattutto che molte persone ti cerchino per comprendere meglio questa Per avere maggiori delucidazioni Esatto, per avere maggiori delucidazioni perché è qualcosa che si conosce poco ed è giusto approfondire Grazie ancora Marco e buon Pride Grazie a voi e buon Pride a tutti Grazie a tutti